Cena di San Valentino al bel sito Teleguetorri, info e prenotazioni 0825 67 00 01 Perché rischiare la vita sullo Fantina con l'indifferenza di tutti? E questa è la domanda che più volte come Telenostra ci siamo fatti perché vogliamo capire perché si abbandona questa arteria. Ne abbiamo fatto vari reportage, siamo stati sui punti in cui purtroppo ci sono stati degli incidenti mortali ma fino a questo momento nessuna risposta. Nelle ultime ore, anzi anche negli ultimi giorni, altri tamponamenti, altri incidenti. Il più grave è quello di Manocalzati dove vittima è stata una ragazza 29enne di Montella, residente a Montemarano, che sta lottando tra la vita e la morte all'ospedale Moscati di Avellino. E allora più volte abbiamo detto ci sono problemi con l'asfalto, ci sono problemi con i limiti di velocità, ci sono problemi con le barriere di protezione, ci sono problemi con la segnaletica orizzontale e verticale. Bisogna capire in che modo trovare una soluzione definitiva per questo problema, perché è un problema che riguarda la vita delle persone. Noi di Telenostra, a costi di essere noiosi, continueremo in questa battaglia, e dalla prossima settimana saremo nuovamente su quella strada, saremo sui posti in cui ci sono stati incidenti e faremo capire che ancora nulla è stato fatto. Questo è un messaggio per chi ha la responsabilità di questa strada, per chi ha la responsabilità di tante vite umane che quotidianamente la percorrono. Grazie. Grazie. Grazie.